Grazie a tutti. I carabinieri e la polizia non mi fanno niente, paga o te le diamo. Nel nostro paese ogni anno, tra cui anche qui nel nord-est Italia, si registrano numerosi casi di violenza da baby gang. Quest'oggi abbiamo l'opportunità di ascoltare la testimonianza di un ragazzo che ha subito tale violenza. Sentite che ha da dirci. Cos'è accaduto precisamente quel giorno? Allora, ci trovavamo alcuni miei amici, come al solito, fuori per incontrarci, come sempre, nella mia città. E all'improvviso abbiamo incontrato sotto i portici questi ragazzi, questi quattro ragazzi, con cui eravamo in brutti rapporti, sostanzialmente. E all'inizio abbiamo cominciato a litigare un po', dopo la situazione ci ha fatto un po' più calda, insomma. E ci hanno chiesto di andare in un posto un po' più appartato. Non ci hanno detto per cosa. Ci hanno detto all'inizio per parlare, ma era palese che non era per quello, volevamo fare una rissa, credo. E arrivati in quel posto, noi non ci siamo tirati indietro, siamo arrivati, però appena arrivati, un ragazzo è estratto il coltello. E da lì alcuni sono andati in panico, alcuni no, ma abbiamo deciso di andare via lo stesso. Siamo ritornati in piazza, quindi in centro. Abbiamo incontrato altri nostri amici che ci hanno dato il consiglio di chiamare la polizia e sparaggere denunce. Non l'abbiamo fatto e si è diventata la scelta giusta. Chi erano i ragazzi che vi hanno credito? Quanti anni avevano? Allora, erano dei ragazzi che i miei amici conoscevano già da elementari, quindi già da cinque anni. Io invece li conoscevo solo da tre anni, dall'inizio delle medie, perché erano in brutti rapporti con i miei amici più cari. Avevano tutti sui 13-14 anni, alcuni non li avevano ancora compiuti. Tutt'oggi, in che rapporti siete? Io personalmente non li sento più, perché alcuni sono andati in riformatorio, non so per quanto tempo. Credo siano già usciti. E altri due invece sono stati messi in punizione, ma credo che la punizione sia già finita. Dato che li conoscevi, potevate aspettarvi che sarebbe successa una cosa del genere quando vi hanno detto di andare a parlare? Sì, sì, ci aspettavamo che era un... non parlare, ma ti prenderà pugni. Se non li avessi conosciuti, li avresti seguiti lo stesso? Credo di no, perché sapevo che volessero iniziare una rissa, sapevo che ero con i miei amici, li conoscevo, ci siamo andati per non farci in punta la reputazione, invece se non li conoscevamo non era più per la reputazione, perché nessuno sapeva chi era e quindi non saremmo andati, nel momento di no saremmo andati per la nostra strada. Qual è stata la vostra reazione quando avete visto il coltello? Un mio amico si è spaventato già da subito e se n'è andato. Altri due miei amici invece credo che non avessero notato il coltello. Io invece l'avevo notato, ma non volevo lasciarli là, sinceramente, quindi sono andato da loro a dirglielo subito e ce ne siamo andati tutti quanti, li ho convinti di andarsi. Dopo l'aggressione, come ti sei sentito? Dopo l'aggressione mi sono sentito più che altro, dopo aver chiamato la polizia, dopo aver detto tutto, anche un po' arrabbiato perché non sapevo se fossero mandati a qualche parte, perché erano tutti quanti sotto i 14 anni, credo, non so. Sì, non mi sentivo realizzato, dopo un po' ho scoperto che sono andati a due in riformatore e due in punizione, e lì mi sono sentito anche un po' vendicato. Ed ora abbiamo la possibilità di ascoltare l'intervista che abbiamo fatto alla dottoressa Pan, un avvocato, dove ci spiegherà le conseguenze che hanno i ragazzi aggressori davanti alla legge. Quali sono le pene che i giudici solitamente infliggono a questi ragazzi che perpetuano violenza? Io farei subito una distinzione, se l'autore del reato ha compiuto i 18 anni o è ancora minorenne. Noi stiamo parlando di baby gang, quindi di norma, solitamente i nostri autori di reato sono minorenni. Qui farei anche un'altra distinzione, se ha compiuto o meno i 14 anni, perché il 14esimo compleanno traccia un confine fondamentale nella vita degli adolescenti, nel senso che si entra in quella che è la cosiddetta età imputabile, e quindi se si commette un reato si è penalmente responsabili e se ne pagano appunto le conseguenze. Questo spesso gli adolescenti non lo sanno perché sono convinti un po' di poter fare qualsiasi cosa senza pensare poi alle conseguenze di cosa possa loro capitare. Naturalmente appunto il tribunale che giudica un minorenne è un tribunale diverso da quello degli adulti. È il tribunale per i minorenni, è un tribunale specializzato a composizione mista. Ora adesso appunto fatta questa premessa vengo alla vostra domanda. Quali sono le pene che i giudici infliggono a questi ragazzi? Diciamo che si cerca sempre di evitare al minore una sentenza di condanna e si cerca se possibile se ci sono delle soluzioni alternative che tendono tutte a rieducare il minore. Mi riferisco ad esempio a istituti quali il perdono giudiziale, l'irrilevanza del fatto, naturalmente nei casi meno gravi e dove effettivamente il fatto è occasionale. In situazioni del genere invece di norma si applica la cosiddetta messa alla prova. Cosa fanno questi istituti? Appunto si cerca di evitare al minore la condanna e mirano in realtà alla rieducazione e alla risocializzazione del minore cercando poi magari di instradarlo verso la strada della legalità e se possibile magari in modo costruttivo e quantomeno invasivo possibile. Naturalmente è anche giusto dire questo, che se queste alternative non riescono, se queste state alternative non è possibile prendere, si può arrivare anche alla condanna e anche a una detenzione in carcere. Quali sono invece i percorsi reabilitativi per questi ragazzi? Allora, abbiamo parlato, abbiamo detto di rieducazione, risocializzazione del minore. Con questa tipologia di reati, che appunto vanno dalla rapina, le lesioni, la minaccia, si applica spesso, si ricorre spesso all'istituto della messa alla prova. Che cosa significa mettere alla prova un minore? Significa sospendere il procedimento in udienza per un tempo non superiore ai tre anni nel quale si costruisce un progetto nell'interesse del minore e al quale lui stesso dà adesione. Se appunto il progetto, che poi vedremo in concreto che cos'è, viene portato a termine, il reato si estingue per esito positivo della messa alla prova ed è una grandissima opportunità per il minore, nel senso che effettivamente è come se il reato non fosse mai stato compiuto. Se appunto, abbiamo detto, se la messa alla prova ha esito positivo e quindi si viene, si porta a termine il progetto, il reato è estinto. Se invece questo, il minore, non porta a termine il progetto perché questo si interrompe, scappa dalla comunità, commette un altro reato e succede, il progetto di messa alla prova viene revocato e il processo continua e si arriva di norma ad una condanna. Le ringrazio per aver risposto alle nostre domande. È stato un piacere per me. Per comprendere meglio le ragioni che portano un adolescente a perpetuare violenza nei confronti dei suoi coetanei, ci siamo rivolti ad una psicologa. La dottoressa no, mi faccio. Per comprendere in maniera più approfondita le ragioni che portano a tali azioni. Venite, ascoltiamo insieme. Cosa spinge i ragazzi che perpetuano violenze nei confronti dei coetanei a compiere queste azioni? La domanda cosa spinge i ragazzi a mettere in atto queste azioni violente prevede varie risposte, no? Perché? Perché dietro ad un atto così dovremo andare a capire qual è il bisogno che il ragazzo sta rimostrando in quel momento lì. Con questo io non voglio assolutamente giustificare un'azione violenta che non va giustificata in quanto violenta ma mettermi dal punto di vista di capire che cosa ci sta dietro. Questi ragazzi come possono essere aiutati? Come possono essere riabilitati? Allora, tendenzialmente quello che ci viene da fare distinto è dare un giudizio, no? E questa è la parte immediata. Però se andiamo a parlare di riabilitazione, di ascolto, di aspetto psicologico quello che noi dovremmo fare è chiederci proprio che cosa mi sta dicendo questo ragazzo qui? Perché arriva a fare un atto di violenza, a minacciare qualcuno? Perché usa la minaccia invece di usare qualcos'altro? Quindi partire da questo, no? Da che cosa ci sta dietro a questo? Anche perché altrimenti io non curo quell'azione. Rischio che poi venga ripetuta. Parlando sempre di sentimenti, di emotività, come fanno questi ragazzi a poter superare questi traumi? Allora, non sempre un evento così è traumatico, no? Il trauma è qualcosa che arriva oggi e fa da spartiacque tra ieri e domani, no? Allora, un evento può diventare, può essere stato traumatico, quindi si va a fare un lavoro tendenzialmente di terapeutico sul trauma o comunque in ogni caso va preso in considerazione, no? Per andare a capire in che modo ha influenzato il suo sistema percettivo reattivo. Può essere che la reazione sia di paura, per cui magari non è traumatica, ma io affronto il mondo continuamente con paura che qualcuno mi aggredisca. Questo mi limita, cioè mi crea una conseguenza, no? Lavorare sull'aspetto è dare un ascolto, anche rinforzare la persona che ha subito, no? Quindi la spazio di ascolto terapeutico è importante sia per chi agisce, perché vado a capire che cosa l'ha mosso, sia su chi l'ha subito per capire che cosa ci si porta di quell'evento che ha subito. Certamente. Lei conosce o ha avuto a che fare con qualche ragazzo che in passato ha compiuto queste azioni, disposto a dare la propria testimonianza? Allora, non conosco nessuno disposto a dare la testimonianza o che ha compiuto azioni di questa gravità. Mentre mi facevi questa domanda qui, mi arriva tornata alla memoria una ragazzina che ho conosciuto quando lavoravo in comunità, che all'epoca aveva 17 anni, e mi aveva appunto raccontato un giorno, un pomeriggio mi ha raccontato che qualche anno prima quando andava a scuola lei era in difficoltà, si sentiva poco accettata e aveva trovato supporto in questo gruppo che lei diceva eravamo delle bulle, ma penso avessero più atteggiamenti di arroganza, prepotenza e mentre lo raccontava lei si vergognava tantissimo di questa cosa, no? Tanto che io facevo fatica a crederle perché in realtà era una ragazza disponibile, solare, molto aperta e anche lì se guardiamo da fuori, no? Uno poteva dire, sì, lei sta trattando male qualcun altro. Se invece si va un po' a scavare, a capire che cosa la portava lì, la portava il suo disagio che in quel momento viveva e solo in quel modo lì riusciva a farsi spazio nel suo mondo, in quel momento della sua vita. Grazie mille, le ringrazio moltissimo per la sua disponibilità ed è stato un piacere averla qui con noi. Grazie a voi per l'opportunità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.